salve a tutti ragazzi e benvenuti a shiva in questo nuovo video di minecraft mod siamo sulla moderscare block 3 e è ora di fare una random think il nostro bel ectoplasma per fare l'ectoplasma qui diceva che il miglior modo è diffusare le pozioni di splash praticamente sono queste ho fatto il trabuco che facessimo fare praticamente si fa così con tre pezzi di cobert una blaze road che le facciamo con questi quindi si ho messo un po di netherworld nelle pozioni basi una volta fatto queste che diventano a walking potion dobbiamo metterci queste per lanciarle dovrebbe essere a posto da quel che ho capito no ci vuole questo la spora on the bottom huge brown mushroom praticamente si trovano dal fungo dal fungo dal fungo allora niente devo andare a prendere questo in teoria non ho capito bene shakaneid spore can be found on bottom of huge brown niente praticamente devo andare a prendere questo che c'è questo che c'è io di sopra non ho capito bene come fare ma adesso ci guarderò bene come fare ah questo ho riattivato la boffarm però ho fatto un po di casini perché non ho chiuso porca miseria ehm sì ehm un attimo solo perché devo chiudere ok no no questo non ho mettere di grazie no eh insomma un attimo di pazienza guarda che porca di quella porca allora andate via da qui non me la fai vedere eh parca la miseric's ehm niente mi tocca eh fare una brutta cosa ma mi tocca farla allora cadete giù un attimo ecco qua così siamo a posto mi sono scusato di chiudere eh quindi è andata così eh ho finito anche la ehm la cobblestone va bene questo ragno qui eh deve morire oh malo andiamo a prendere un po di cobblestone frettissima ma che ci fa una mucca qua dentro eh ma guarda anche una capra ma è una piccola ma dove sono uscite che avevo ammazzate tutte naturalmente sono pieno eh mi sembra più che ovvio allora andiamo a prendere la cobblestone allora cobblestone rompiamo un po' di roba che non ci serve niente cobblestone andiamo pure qua chiudiamo avevo fatto posta mi sono scordato di fare eh di chiudere purtroppo è andata così va bene dai non importa allora chiudiamo di nuovo qua eh vedete come cadono giù proprio tranquilli cadono giù ok adesso dovrebbero farsi di nuovo a parte se non si ammazzano oh c'è un enderman allora dopo dovrò usare la pozione ehm la pozione basta che ma guarda te basta che la butto là dentro siamo a posto allora vediamo come fa sto mushroom che non ho bene capito allora vediamo un po' guardo un secondo e arrivo niente ragazzi ho trovato un modo più semplice fare la potion of harming di livello 1 poi passare a livello 2 ehm la potion of harming si fa con la spider eyes e l'ho fatta cioè la sto facendo appena me la fa si dà una mossa quindi penso che sia un po' bagato infatti eh una volta che ho fatto la potion of poison eh devo fare il fermenting che devo fare con la spider eyes un mushroom e uno sugar quindi il mushroom se non sbaglio dovrebbe essere qui da qualche parte esatto eh uno sugar uno sugar vediamo un po' dove è lo sugar 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 eh adesso trovarlo eh dove l'ho messo non mi ricordo che sia questo lo sport no eh trovarlo lo sugar è un po' un problema però sono sicuro di avercelo da qualche parte eccolo qui uno sugar e poi cos'altro ehm un mushroom normale un mushroom uno sugar e una spider ok dovrei farcela a farlo vediamo un po' ecco qua e adesso possiamo farlo eh non so esattamente quante ne voglio mi sono perso di nuovo però dovrebbero bastare visto quanti ce ne sono eh io ci proverei ok ok una volta fatto questo la pozione 2 non posso farla eh dovrei farlo splash per farlo splash lo so io ci va questa ecco esatto ok adesso qui è un po' bagato però sta andando ok posso farlo arming adesso ci vuole il gunpowder così la rendo lanciabile e siamo a posto forse bastano grazie a questi dovrei prendere l'ectoplasma in teoria a livello teorico eh cretoplasma mi serve fare questa questa quest se io vado su ectoplasma ectoplasma mi dice eh che si può prendere ovunque dalle entità che muoiono quando hai una piccola possibilità di farle evocare questo spirito quando ammazzi eh ammazzando lo spirito usando la magia per esempio una pozione e ottieni uno o due octoplasma io ci provo vediamo se ci riusciamo allora queste sono lanciabili e quindi si dovrei farcela in teoria vediamo un po' e andiamo a provarci visto che i mob ne abbiamo tanti vorrei provare però bisogna che mi svuota un attimo l'inventario allora vado un attimo qua che questa è una chest eh facciamo così perché se no non ce la faccio eh questo magari lo tengo mettiamo via questo eh basta dopo vengo a riprendere tutto e così sono tranquillo perché siccome c'è molta roba non vorrei eh comunque ho gli hopper e questo qui che prende mmm ecco quindi dovrei farcela allora mi metterei sul sicuro qua adesso dovrei farcela eh no bisogna che mi metta un altro po' più in alto siamo a posto così eh buono rilassati ecco qua poi vai vediamo un po' ancora vediamo se ce la faccio ammazzarli dovrebbe dovrebbe oh chi fai te qua animalo ecco qua vediamo se ho avuto un po' di fortuna eh vediamo un po' queste palle che ho lanciato prima questa varie cose che ho rilanciato l'amor farm eh diamo un po' un po' di ectoplasma me lo puoi anche dare niente a meno che non sia qua porca miseria via questo vediamo un po' se è rimasto lì da qualche parte ma eh adesso qui non c'è niente diamo un po' e lo sapevo che c'era troppa roba porca miseriaccia ce n'è un po' troppa e un po' si riesco a far arrivare qualcos'altro ma non penso sia arrivato niente sta ancora arrivando roba è incredibile allora mettiamo il mio vecchio caro vecchio bidone via qua e via qua facciamo così devo cercare assolutamente di prendere più roba possibile perché se l'ectoplasma me l'ha droppato sono fregato qui non c'è 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 purtroppo non c'è devo provare finché non ci riesco ok ragazzi faccio un po' di prove e ci vediamo fra poco ok ho fatto un po' di pozioni adesso ci riprovo provo a riprendere una cassa per primo perché se no non riesco a farcela allora intanto quello che fa io lo preparo diamo un po' 8 no aspetta 4 devo farle ok diciamo ehi buonanotte vedo che ho sentito che l'ha finita andiamo a farla diventare splash e siamo a posto qua mettiamo via la netherworld meno male che ne avevo un po' e siamo a posto vero si ne ho 6 speriamo di avere un po' di fortuna questa qui potremmo anche metterla via ok cerchiamo di essere più veloci possibili forza splashamala ok splasha tutta adesso andiamo fuori vediamo un po' che succede perché bisogna avere anche un po' di fortuna però adesso facciamo una cosa del tipo così non ho messo la vabbè non importa così almeno se arriva a qualcosa siamo tranquilli ok qui si ammazzano tra di loro non importa ahia non a me eh vabbè facciamo così dai tac ok ah ma vabbè oh mi avete vai muori così muoricimalo muoricimalo deve morire con la pozione non posso fare diverso intanto mi metto un po' a posto vediamo un po' se riesco a ok è morto quello è morto anche questo mi hai dato niente non mi ha dato il top plasma non ne vedo la fortuna non mi ha assistito adesso vediamo se ci riusciamo adesso e qua così ok dovrebbero morirci malo adesso e vediamo un po' che succede però adesso niente ancora c'ha in mano una pozione spero non sia la mia non sono morti non ha fatto nessun danno speriamo che qualcosa sia arrivato non è arrivato più niente non so più sinceramente come fa come fare vabbè riproverò ci vediamo dopo se ho capito bene non dobbiamo uccidere i mob con la pozione ma gli ectoplasmi con la pozione quindi in teoria dovrebbe essere più facile io basta che ammazzo un'enormità di mob appena escio l'ectoplasma gli tiro questa pozione speriamo che funzioni perché non so come fare purtroppo e qui poi mi ammazzano tutti non mi fanno uscire gli ectoplasmi quindi è un po' un problema o dovrei ammazzarmi a caso così ma nonostante l'armatura sia abbastanza potente non riesco assolutamente a farcela sono veramente troppo forti allora vediamo un po' di far così purtroppo devo fare un sacco di giri per riuscire a fare queste pozioni non è niente facile vediamo un po' mettiamo qua mettiamole qua queste dopo faremo le convertirò allora vediamo un po' qui ha quasi fatto e la portiro gli altri tre vai bravo e poi ci vanno queste che le fanno splashare ho visto diversi video però non è che sta mod sia così tanto usata e così tanto famosa insomma a meno non per queste cose probabilmente per altre una volta fatto questo io vorrei sapere come faccio il sapping sarebbe bello saperlo una volta che fai il sapping fai il cosa create dal right click di vanilla sapling con un ectoplasma ho capito va bene tanto sicuramente devo farlo perché è la quest quindi dovrò farlo allora anche questa è andata adesso vi manca questo e questo e siamo a posto quindi si bisogna far così scusate ho sbagliato questo qui creato dal creando con right click in un vanilla sapling con un ectoplasma il sapling diventerà l'ectoplasma eh dopo cercherò di capirla questa cosa perché non è facile naturalmente si spiegano sempre molto male perché non va mi prendi per il culo dai ci si mettono siamo fottuti qua dai su andiamo un po' devo andare ho attivato la manfa per l'ennesima volta e adesso vediamo se riesco a fare qualcosa ma a sto punto non lo so sono un po' titubante che sono veramente troppo forti soprattutto le streghe mi massacrano ok andiamo pure a vedere come poter fare perché e poi soprattutto prendiamo da mangiare perché non possiamo andare avanti così allora questa qui questa qui e questa qui e questa qui intanto lui switcha intanto andiamo ok sono piena vita sono carico e qui è pieno di mob non so se essere felice o meno ma comunque allora vediamo un pochino ok eh ma allora ho usato il codice per niente allora è pieno di di creeper non riesco a vedere un cazzo allora non vedo fantasmi per il momento comunque girano per un po' e quindi dovrebbe essere abbastanza facile se si si apprende magari ok prendilo però il creeper non è che stai lì a guardare se fanno passeggiato o meno niente neanche un ectoplasma posso anche stare qui e aspettarlo però non so quanto possa convenire ok ce n'è uno neanche un ectoplasma eh mi tocca fare così un po' di volte ragazzi solo che se lo faccio off camera non ve lo faccio vedere se sto così sto tre ore è un bel casino un bel cavolo di casino vediamo un po' si dà la mossa provo a allontanarmi un po' vediamo se esponano di più di così non posso fare speriamo bene perché qui veramente io adesso sono off camera sono più di mezz'ora che sono qui fare le varie prove perché le guide non è che spieghino proprio bene sono fatte un po' cazzo quindi si poi c'è questo mod va a chiedere questo a volte che non sono per niente usate e quindi eccolo eccolo ok preso ce l'ho fatta avete visto tutti perché se no dopo viene fuori un casino ah ce l'ho fatta non ci posso credere finalmente un ectoplasma alleluia mamma mia mamma mia è stato un casino un casino veramente allora prendiamoci la nostra roba cioè non vi immaginate da quanto tempo ero qua a fare la spola avanti e indietro è stato veramente un casino allora mettiamoci un po' a posto perché ho troppa mondezza queste qui queste qui queste qui poi queste cose qua le butto via tanto ne ho un sacco adesso vorrei mettere da parte anche queste pozioni perché ci ho messo troppo a farle e poco a tirarle quello è il problema questa che cazzo c'entra non lo so questa qui va bene questa l'argilla la metterò qua adesso metto via un po' di roba ragazzi perché se no veramente mi esce dalle orecchie ok bene questa quest è fatta madonna santa quanto ci ho penato ok ok non è niente the spectral key allora la chiave spettrale da te e alla tua stanza madre stanza ovne vuol dire in cui controlli insomma the spectral dimension ti da la possibilità di entrare in un po' spectral key perché qui perché qui tra ok ho scritto male sicuramente ma che cacchio sto facendo no ho scritto male sicuramente dai eccola qui spec 3 ok come si fa si fa con una stable enderpearl così ok questa la posso fare non c'è problema però devo capire l'aspetto che garantisce un accesso a te alla tua privata stanza nell'aspetto alla dimensione cliccando cliccando per 5 secondi sarai teletrasportato e andrai nella run teletrasportata non c'ho capito una mazza non so se avete capito voi perché io non c'ho capito un cazzo allora vabbè questo lo farò adesso mi interessa più che altro fare questa allora usando l'ectopasma su un sapling tornerai dentro lo spectral sapling tu non puoi grovare via entry tape bomil allora non puoi usare il bomil le leaves hanno un reale basso possibilità di doppare l'ectopasma ma tu sei se sei fortunato ma ma se tu sarai fortunato tu potrai prendere due ectoplasmi da un albero allora usando l'ectoplasma su un sapling ok quindi io devo fare semplicemente quello che mi ha scritto lui oh guardate una rare mamma mia mi è venuto un colpo per fare staccato di questa veramente assurda esosa al massimo allora un sapling va bene io ho capito cosa vuoi dirmi te adesso il sapling lo prendo anche non ho problemi a prenderti e te lo metto anche qua basta non me lo chiedi che devo mettere in una stanza aperta perché sarebbe assurdo ok l'ho presi due non so perché va bene la lag sempre in momenti sbagliati adesso io in teoria se spingo l'ectoplasma qui ok perfetto adesso se io ti rompo ok l'ho preso va bene e anche questa è andata cosa mi chiede ok questo non è un problema fare i cosi i wood perché io ho un sacco di bonsai che adesso dovrò usare perché lui dice che si può usare adesso il bonsai hopper da qualche parte ce li ho qua si era uno ce ne avevo qua lo so perché era quello che ho usato però vabbè ma ne avevo anche altri per carità va bene ho anche dei cavolo di cosi da usare aspettate un attimo io ho un dropper drover a due a due non me ne faccio un cazzo meglio prendere una quattro dunque cosa allora cosa dava questa cosa vediamo un po' boh cosa fa questo non ci penso proprio potessi fumato come un bonsai allora da cinque drop allora questo non mi interessa questo mi interessa e questo mi interessa in teoria mi interessano solo questi due ci posso provare con uno doppio dovrei avere un po' di culo effettivamente però non si sa mai magari ci va bene allora uno qua uno qua uno qua e uno qua magari ci va bene adesso ci metterà 30 anni però vediamo cosa salta fuori se riesco a fare saltare i fogliatoplasmi guardate ci ho messo la possibilità è bassa come l'ender purple e quell'altro sicuramente però se a meno mi dai il tronchi è già qualcosa un sapling oh mamma mia ragazzi avete visto? io ho visto non so voi ma è uscito un etoplasma cioè non ci credo dopo che sono morto per cercare di prenderlo me ne è uscito uno cioè bisogna festeggiare bisogna andare a bere una birra assolutamente perfetto ok allora lui diceva che non posso usare il bombilla però non sono sicuro che non posso usarlo lì sopra io ci voglio provare perché diceva che il bombilla non può essere usato sul sapling ok ma io non lo uso sul sapling non lo uso su un consai e vediamo se cambia qualcosa giusto per vedere tanto giusto per sapere intanto si può scoleggiare solo ho visto che si può scusate ma io devo rimpostare un attimo sono morto almeno sei volte non dico cacate per riuscire a fare questa quest ma veramente mi ha esasperato vedete che si può vedete che si può perfetto quanti trasplasmi ho uno questi qua allora io adesso vi vado a fare una bella scorta dato che ne ho tanti non li vado neanche a tritare perché sinceramente non so più dove buttarli se ci guardo qua ne ho che mi escono dagli orecchi guardate qui 64 di questi che ognuno ne dà guardate cioè non sto neanche a tritarli perché non c'è neanche bisogno e quindi siamo a posto ho fatto le luce a posta per evitare di fare casini allora vediamo quante ne escono ne usero tanti ma pazienza a un certo punto se posso evitare risparmiare un po' di tempo io lo risparmio non ho problemi ok eh si però c'è certe volte cosa mi ha dato un sampling a volo così ok perfetto ottimo dimmi che ne stai facendo una marea perché 10 ectoplasmi che cosa è gradita bene 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 sono contento ragazzi avete visto anche voi in diretta quindi capite che è possibile farlo senza troppi eccessivi problemi a parte la ora che no ora no per otto e quarti d'ora ci ho perso sono morto 6 volte 6 sì 6 volte ok io prenderei 5 e un po' di ectoplasmi perché così sono così a caso senza motivo però riprendo li metto un attimo qua perché sì e siamo a posto mamma mia mamma mia qui vado ad aprire perché se no viene fuori un marcello li butto giù un attimo poi dopo farò bene tutto quello che devo fare ciao è stato un piacere sì sì esplodete fate quello che volete tanti saluti a pizzerò ok adesso non devo più preoccuparmi oh mamma mia questa è stata veramente un marcello è una soddisfazione averla fatta ecco questa qui non ci ho capito una mazza scusate ma io non ci ho capito proprio un cazzo adesso la faccio lui vuole che faccia allora vuole che faccia la key che va in un'altra dimensione vero perché tu sei stronzo e bastardo no vuole solo che faccia la key va bene vediamo cosa ci ha dato la questa wow retuntumo moonsharm questo deve essere interessante vediamo un po' allora not found right click on teleport hold right click ti use allora right click devo avercelo per usarlo non ho capito un cazzo ragazzi cioè io stick bubble e cazzo se mi dite come funzionano della science jam va bene sto spingendo ma non mi porti a casa non fai come lessi right click to home devo caricarti non c'è scritto un cazzo va bene dai ci guarderò adesso non ho voglia adesso ho bisogno di mangiare e devo andare a fare questa quest assolutamente così mi chiudo anche quella e siamo apposta dando think me la fate proprio all'usare basta come mod perché non mi ha fatto fare niente va bene la key spectre ok ok vediamo come si fa abbiamo detto con lapis obsidiana e una questa ho presa non ne sono neanche accorto ho preso la carta vi rendete conto che ho preso la carta ho preso la carta va bene andiamo pure a prendere l'obsidiana andiamo a prendere il resto che manca 4 di ossidiane e poi lapis lapis eccoli qua e dovrei riuscire a farcela ok andiamo qua andiamo qua andiamo qua andiamo là cosa vuoi te oh no l'ispetta ringot mamma mia mamma mia per più che tu sia allora 9 cosa cambia da 9 3 6 ah con 7 ne faccio 9 no è la stessa cosa perché con 9 devo fare 9 di questi ok ho capito ho capito va bene mi va meglio così 9 grazie li preferisco visto che ne devo fare tanti visto che devo farne faccio poi devo fare questo lapis 9 anche di questi ne ho 8 9 ok è un bel casino lo so ecco qua e questo è fatto adesso si in effetti con 3 facevo prima però visto che ci sono ne faccio 9 con 3 6 7 dovrei averli 7 allora dove li ho buttati qua ne ho buttati un po' però li volevo lasciare ne ho buttati 3 ne ho 9 qua no 7 volevo dire ne ho 11 quindi in teoria si ok ne sono rimasti 4 tanti saluti a pifero beh dai siamo contenti alla fine ce l'abbiamo fatta è stata dura però ce l'abbiamo fatta 9 adesso tu mi fai fare la key e non mi rompi neanche i marroni ok è andata io ce l'ho non so non so come si usa vada non mi va mi va neanche di entrarci perché tanto è inutile complete the spectra da a te e alla tua stanza l'aspetto a dimensione che non so che cazzo ci facciamo nell'aspetto a dimensione però visto che per adesso non me la fai fare la metterei da parte la metterei qua insieme a questi e insieme a questo questo cosa fa ah interessante magical snow globe and forest hills non so guarderemo poi questo è fare cesto normale questo è fake corn fa una marea di comassi alla fine fa come tronchi normali non è che ha proprietà speciali merda come gli altri non da niente mi aspettavo qualcosa di meglio niente assolutamente lo vede come un log normale va bene non mi importa mettiamo anche questo sapling e tanti saluti al pifero adesso abbiamo finito anche questa le abbiamo finite tutte sono a posto dovrebbe 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 che cazzo lingua è dovrebbe avermi sbloccato qualcosa oh finalmente e soprattutto no qua non mi ha sbloccato niente va bene però mi ha dato un trofeo è la cosa mi piace molto oh qua c'è qualcosa quindi mi ha sbloccato qualcosa gli item vediamo se mi hanno sbloccato questi no ancora no però devi avermi sbloccato per forza qualcosa vediamo un po' astral sorcii sorcii astral con astral non ho niente io vediamo un po' astral no non ho niente jacob provo con astral ma dovete c'è una mod che si chiami astral astral no invece c'è astral sorcii esatto mi hai sbloccato vediamo cosa mi ha sbloccato gli item che posso usare a parte questi che li potevo già vedere prima però volevo vedere se c'era qualche item che di solito prendevo che lui mi può sbloccare non vedo niente di particolare purtroppo è un peccato perché mi sarebbe tanto piaciuto se mi avesse sbloccato qualcosa alluminio no qualcosa di che di solito prendo ma non vedo niente di particolare a parte liquidi cose così non vedo niente ragazzi veramente non c'è niente c'è questo che forse prima non potevo vederlo ma non vedo cose particolari queste qui non ho capito a cosa servano queste sono è una basata sugli asti comunque è una magia c'è una table nuova sappiamo che di non dover fare vedete questa costituzione dover fare come ho fatto con la Psy perché sono veramente morto cheese and smooth in marble va bene dai proveremo tanto ci sono delle quest apposta di queste le proverò mi dispiace che non ci sia niente che ho sbloccato di particolare però si questo piccone cosa fa di bello something seems to be hard but you can't tell what is yet non ho capito una mazza di quello che mi hai chiesto però non mi sembra che faccia niente di che un 6 e un 3 va bene va bene dai ragazzi sono contento abbiamo fatto anche questa è finalmente finito il capitolo chiuso con questa manca solo da finire questa e la faremo nel prossimo episodio e la magia è terminata questo c'è da fare e lo faremo nel prossimo episodio così finiamo questi due e tanti saluti al pifero qui invece c'è da fare qualcosina in più devo ancora pensarci bene questa l'abbiamo finita e questa qui è quella nuova che dovremo iniziare sembra abbastanza facile spero che me la spieghi un po' meglio di come mi ha spiegato l'altra e dopo ci sono le bise e tutto il resto va bene ragazzi io direi che per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo video con minecraft mod della mod che è il block 3 e vedevo di capire le nuove mod perché non le conosco e quindi ci sarà da penare per me va bene ragazzi vi do un saluto a Shiva ciao ciao